Nelle Marche è partito il Toto Assessori. Concluso lo spoglio delle schede, ora è tempo di affidare gli incarichi più ambiti, tra questi la Presidenza e i sette assessorati che dovrebbero ripartirsi la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma si attendono gli accordi dei leader politici. Nella provincia di Pesero Urbino spiccano i nomi di coloro che hanno conquistato migliaia di preferenze, tra questi Mirco Carloni della Lega, che con oltre 6.800 voti è il quarto più votato della Regione e il primo del suo partito. Un risultato che non fa escludere anche il ruolo di Presidente del Consiglio. Al settimo posto troviamo invece Francesco Baldelli, di Fratelli d'Italia, che sfiora le 5.000 preferenze. L'ex sindaco di Pergola è il terzo più votato del centrodestra, anche lui è in attesa di comunicazioni ufficiali, ma in ogni caso rimarrà a disposizione. Al momento pare che all'Udc e alla lista Civitas Civici non vengano assegnati assessorati, ma non si escludono colpi di scena. Se da una parte c'è chi attende le trattative per la formazione della nuova giunta, dall'altra c'è chi fa un bilancio della tornata elettorale, come Renato Claudio Minardi, vicepresidente uscente dell'Assemblea legislativa delle Marche, che ha ottenuto 4.490 voti, posizionandosi nella lista del PD dietro ad Andrea Biancani e Micaela Vitri. Questi ultimi, grazie alla doppia preferenza, hanno incassato insieme 16.000 preferenze. Un ticket uomo-donna che ha alzato il livello del numero delle preferenze ha premiato Micaela Vitri, che è nuova alla politica ma che ha avuto la possibilità non solo di presentarsi ma di fruire di questo ticket con il collega Andrea Biancani. Ma ovviamente a Pesaro c'è stato anche un grande impegno da parte del sindaco Matteo Ricci che ha sostenuto apertamente con una discesa in campo come supporter forte, determinato, questo sostegno sia a Biancani che alla Vitri, cosa che ha fatto insomma ho percepito molto meno. Quindi c'è stato un errore da parte dell'amministrazione comunale in questo senso? Quando l'amministrazione comunale il sindaco chiamava, Minardi ha sempre risposto affrontando i problemi, cercando di trovare le soluzioni e molto spesso anche mettendo in campo risorse importanti per la risoluzione di questi problemi. È chiaro che mi aspettavo un impegno maggiore. Sapendo che la vittoria del centro-sinistra non era scontata, proseguito Minardi, bisognava concentrare il consenso su chi davvero ce l'avrebbe potuta fare. Rimane rammarico, aggiunto, per il tanto lavoro svolto per la città e per l'intera provincia. Perché credo che non solo Minardi ma il Partito Democratico, il centro-sinistra, avesse il sacrosanto diritto di avere una persona in Consiglio regionale che in questi anni ha dato davvero il massimo. Ovviamente non posso adesso scaricare la colpa su nessuno, però sicuramente se ci fosse stata magari un po' più di strategia politica rispetto al fatto che Pesaro ha comunque 30 mila abitanti in più, questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, sicuramente c'era bisogno di una concentrazione, di un impegno maggiore, di un'attenzione maggiore rispetto ad una campagna elettorale che sapevamo difficile. Un'altra valutazione che andava fatta per Minardi era l'alto numero di candidati, ben sedici nel comune di Fano, alcuni dei quali autorevoli. Ecco ma ora che cosa farà? Continuerà il suo impegno nella politica? Beh la politica per me è una passione da quando ero giovanissimo, ho cominciato la mia attività politica tra virgolette nella scuola alle superiori come rappresentante di classe e di istituto, quindi ovviamente non mi tirerò indietro, il mio impegno rimane quello della prima linea, non è il ruolo che fa il politico e la politica se ce l'hai nel cuore, se ce l'hai nel tuo DNA, se hai voglia di impegnarti, la politica ti permette di fare a prescindere dal ruolo, quindi il fatto di non essere in consiglio regionale per me adesso è un fatto così, sì mi dispiace, mi dispiace non poter rappresentare la comunità ma il mio impegno in politica rimarrà quello di prima, anzi direi molto più di prima e con più determinazione di prima.